Allora siamo arrivati quasi alla conclusione della serata Allora andiamo alle presentazioni Allora partiamo dalla batteria Claudio Aresi Al basso Danilo Rota Alle chitarre Stefano Gazzaniga All'altra chitarra Mario Perico All'altra chitarra Andrea Michalizzi Al sax Guido Stefanini Io sono Marco Buffoni All'altra chitarra All'altra chitarra Mario Perico 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 Sì, è un palazzo che ti offres Nie la mano, no mano, no mano, no mano Grazie a tutti 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 Grazie a tutti